Stamattina stiamo facendo una conferenza stampa per presentare il progetto di Alisa. Alisa è una taverna che noi inauguriamo, taverna alimentazione e salute, destinata ai pazienti oncologici. Sono dei corsi di formazione e informazione per i pazienti e per i pazienti sani, quelli guariti, e insegnare alle persone come bisogna mangiare, cioè quindi la prevenzione primaria attraverso l'alimentazione. L'obiettivo è anche quello di estendere questi corsi ai cittadini nell'ambito di quello che è praticamente il programma di prevenzione primaria, mangiare bene e un sano stile di vita riduce l'incidenza dei tumori e migliora la guarigione dei pazienti oncologici. L'associazione Angela Serra è impegnata da anni in questo campo, ci occupiamo di accoglienza, abbiamo il telefono oncologico su tutta la provincia di Salerno che assiste praticamente i pazienti, ma non dal punto di vista psicologico, noi diamo informazione a potenziali pazienti, cioè persone che hanno una diagnosi o una sospetta diagnosi di tumore per ridurre praticamente i viaggi della speranza, quindi le cure a chilometro zero, facendo riferimento ai centri più vicini a noi e qualora veramente non fosse possibile indirizzarla verso un vero centro di eccellenza per evitare che perdano tempo. Quindi questo è il nostro lavoro, con la Verna di Alisa sicuramente si apre un qualcosa di importante, il secondo centro in Italia che è, almeno da quelle che sono le mie conoscenze, che si occupa di salute e alimentazione come fatto proprio strutturale. L'altro è a Milano ed è presso l'Istituto Tumori di Milano, la Cascina Rosa, coordinata fino a qualche tempo fa dal professore Berrino che è ancora il direttore scientifico, la dottoressa Villarino, quindi eccellenze nel campo della nutrizione. Noi non vogliamo imitare quella struttura perché non abbiamo sicuramente questo tipo di ambizione, ma sicuramente vogliamo creare qualcosa che si comincia ad avvicinare a quella che è l'informazione corretta sull'alimentazione e quindi fare in modo di diffondere la cultura della sana alimentazione.